Allora, io ho deciso che non andrò mai più in televisione, cioè non voglio andare in televisione, voglio andare nei canali miei che mi creerò io. E Anina Moric, Contatto Affetto, rispondo così, che quando si è non si sta bene bisogna farsi com'è e non bisogna essere egoisti nella vita. Bisogna pensare se si ama, e questo vale per tutte le persone, mi rivolgo a tante persone in questo momento, se si ama veramente bisogna volere il bene delle persone che si amano, non il male. E ora lasciatemi in pace e lasciatemi essere quello che non sono stato per tanto tempo. E lasciate stare mio figlio. Più tardi vi dirò altre importanti verità.